Ho preso molto sul serio l'analisi del prefetto di Lecce Claudio Falomba che parla di un rischio infiltrazione concreto da parte dei clan campani sul turismo salentino. Altrettanto ritengo dovrebbero fare le classi dirigenti locali e regionali se veramente hanno a cuore l'economia sana del nostro territorio e il benessere delle comunità amministrate. Lo afferma in una nota il Vice Ministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova. Parole pesantissime prosegue Bellanova di cui mi faccio interamente carico. Per questo sentirò presto il Ministro Alfano sottoponendogli le dichiarazioni del prefetto che immagino già conosca sollecitandogli di conseguenza una grande attenzione nei confronti del nostro territorio e anche se necessario azioni conseguenti. Eravamo consapevoli che la crescita esponenziale del turismo salentino potesse alimentare attenzioni e appetiti della criminalità organizzata e già agli scorsi anni non erano mancati segnali in questa direzione a cui avevamo dato il giusto rilievo e la dovuta attenzione. A questo punto è evidente come la risposta non possa definirsi solo in un'azione repressiva ma debba coinvolgere tutti i corpi sani delle nostre comunità. Comprendo perfettamente l'appello a sbloccare le opere che possano garantire occupazione, conclude la Bellanova, come la necessità di controlli incrociati presso gli sportelli unici e attività produttive e anche il richiamo alle categorie produttive perché si attivi un'azione di responsabilità preventiva. L'allarme lanciato dal prefetto Palomba sul pericolo di infiltrazioni mafiose dei clan campani nel settore turistico e nell'economia del territorio scuote dunque la politica locale. Anche Cristian Casili, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sul tema sottolineando come non si possa restare silenti di fronte agli appetiti della Camorra e delle altre organizzazioni criminali che hanno fiutato la possibilità di importanti investimenti nel settore immobiliare, nella ricettività turistica, nei servizi e nelle strutture di intrattenimento. Purtroppo ad essere interessata dalla malavita non è la sola Gallipoli ma gran parte del territorio leccese e non solo quello costiero. Penso alla parte più interna dove il crollo dei prezzi dei terreni agricoli a seguito del fenomeno Xilella sta portando a passaggi di proprietà e accorpamenti anomali su cui si deve convogliare l'attenzione degli enti chiamati a rilascio di autorizzazioni e permessi a costruire. Tutti iniziando dalla politica devono fare la propria parte se vogliamo concretizzare l'accordo per la sicurezza integrata come ha spiegato il prefetto Palomba. Casili chiede che la Regione Puglia si faccia promotrice di un percorso di legalità e vigili sulla erogazione delle risorse della programmazione 2014-2020 sul cambio di destinazione d'uso di suoli agricoli. I comuni, conclude Casili, non possono essere lasciati soli e sarebbe auspicabile aprire un tavolo regionale permanente che coinvolga tutti gli attori locali, operatori turistici, professionisti e istituzioni al fine di programmare correttamente le azioni di un territorio che va tutelato dagli appetiti mafiosi e dal consumo di suolo. È stata una domenica funestata da diversi incidenti, anche mortali, quella appena trascorsa nel Salento, i più gravi a Torre Lapillo e a Squinzano. Il primo episodio si è consumato nella tarda serata di ieri nella Marina Ionica dove un uomo è stato travolto e ucciso a pochi metri dalla sua casa al mare mentre con una carriola trasportava alcuni rifiuti verso i cassonetti. Un destino beffardo e atroce, quello che ha strappato ai suoi cari Venerio Caione, 62enne residente a Monteroni. L'uomo si trovava nella sua abitazione alla periferia di Torre Lapillo, nei pressi di Villa Eugenio. Tutto è accaduto in pochi terribili istanti. Una macchina ha rallentato per consentire all'uomo di attraversare. In quel momento è sopraggiunta una moto a forte velocità che ha travolto la vittima. Le condizioni dell'anziano sono apparse subito disperate, inutili tentativi di strapparlo alla morte. L'uomo è deceduto nella notte. L'ennesima vittima lungo le strade della località balneare, già al centro di casi analoghi e polemiche. Il conducente della moto è stato poi identificato e fermato dai carabinieri. Sottoposto ai controlli è risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato con accusa di omicidio stradale. È invece ricoverato in prognosi riservate nel nosocomio leccese. Un 42enne è investito sulla Squinzano a Casalabate. Il malcapitato rischia di perdere un piede. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Squinzano. Paura a Leverano per uno scontro avvenuto nella mattinata di ieri tra un ciclomotore e una matiz condotta da una donna del posto. Ad avere la peggio è stato l'anziano alla guida del motorino. L'incidente è avvenuto nel centro abitato. Alla guida dello scooter si trovava Salvatore Cagnazzo, 73enne, in pensione, ex gestore di un distributore di carburanti. Il suo ciclomotore è stato colpito in pieno dall'auto. L'uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto, riportando un trauma cranico, oltre a diverse fratture ed escoriazioni su tutto il corpo. Sul posto, per rilevare la dinamica, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Leverano. All'origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza. Infine, sempre in mattinata, incidente sulla tangenziale est all'altezza dello svincolo per la superstrada Lecce-Brindisi. A causa di un violento tamponamento tra una Hyundai e una Ford Fiesta, sono finiti in ospedale i conducenti delle due auto, ma per fortuna in questo caso non ci sono state gravi conseguenze per nessuno. E' avvolta nel mistero la morte di un 37enne di Salice, Cosimo Persano, caporal maggiore dell'esercito. Il corpo del militare è stato ritrovato senza vita in un dirupo nei boschi di San Giacomo a Venzone, in provincia di Udine, il comune in cui risideva da alcuni anni. A fare la tragica scoperta è stato un escursionista. Le ricerche erano cominciate una settimana fa, dopo la segnalazione della moglie, che aveva lanciato l'allarme, non vedendolo tornare a casa. Caporal maggiore scelto di stanza nel paese friulano, in seno all'ottavo reggimento alpini, l'uomo lascia una moglie e una figlia adolescente. Ancora poco chiare le circostanze della morte. L'ipotesi più accreditata è quella della morte naturale, ma in queste ore sono in corso accertamenti più approfonditi dei carabinieri per fare luce su tutta la vicenda. Quattro persone, due bimbe di 8 e 10 anni e i nonni, tutti di San Michele di Bari, sono rimaste ustionate in seguito ad una fiammata provocata da una fuga di gas in un bungalow nel camping villaggio Ledune di Torre Canne, Marina di Fasano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I feriti sono ricoverati al centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi. Non sono in pericolo di vita, ma il nonno, 69enne, che ha riportato ustioni sul 70% del corpo è in prognosi riservata. Gravi le ustioni anche per la bimba di 8 anni, mentre la nonna e la nipote di 10 anni guariranno in un mese. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Secondo quanto accertato sinora, l'incendio è scoppiato per saturazione dell'ambiente, mentre la nonna stava preparando il caffè. La sua passione per il volo col parapendio stava per trasformarsi in tragedia. Protagonista è un 58enne originario di San Giovanni Rotondo, Mario Nardella, che ieri mattina stava sorvolando un'area di campagna sulla Lecce San Cataldo, lungo l'asse della cosiddetta strada di Fondone nei pressi dell'aeroporto Lecce Lepore. L'uomo stava effettuando alcune evoluzioni a bordo di un parapendio, ma avrebbe praticato una manovra pericolosa che lo ha costretto a usare il paracadute di emergenza. L'arrivo al suolo non è stato dei più morbidi, nonostante l'accortezza e la rapidità nell'azione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito l'uomo al Vito Fazzi di Lecce. Diverse le fratture riportate sul luogo dell'incidente, anche gli agenti della squadra mobile, per i rilievi e ricostruire alla dinamica dell'incidente. Episodi del genere sono piuttosto frequenti. Il 6 aprile scorso, ad esempio, era accaduto un fatto più o meno simile fra Gallipoli e San Nicola, dove a precipitare, finendo in ospedale, era stato un trentenne di galatone. Il Codacons lancia in Puglia una mega class action in favore degli utenti dell'energia residenti in regione contro i recenti aumenti delle tariffe di luce e gas scattati lo scorso primo luglio, con l'elettricità rincarata del 4,3% e il gas dell'1,9%. L'associazione pubblica a partire da oggi sul proprio sito internet il modulo per aderire all'azione collettiva. Nel contempo ha deciso di presentare un ricorso al Tar del Lazio volto a bloccare i rincari. L'autorità per l'energia, nel motivare gli aumenti delle tariffe, è detto in una nota, ha denunciato speculazioni da parte dei grossisti, parlando di strategie anomale adottate da diversi operatori sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, che hanno portato ad un rilevante aggravio di costi per il sistema e ad una alterazione del normale meccanismo di formazione dei prezzi nei mercati. La stessa autorità ha avviato un procedimento per punire le condotte poste dei grossisti dell'energia elettrica e configurabili come abusi di mercato ai sensi del regolamento dell'Unione Europea. Inizia ufficialmente questa settimana la nuova stagione del Lecce targato Pasquale Padalino. Oggi infatti per i giallorossi sono in programma visite mediche e test atletici. Prima della partenza per il ritiro precampionato di Cotronei in Calabria, fissato per la giornata di giovedì 14 luglio. I calciatori sono ritrovati presso il Ristoppia Resort sulla Copertino Sandonato per un lavoro di preattivazione da effettuare presso la stessa struttura e lo stadio Via del Mare. Proseguono intanto le trattative di calciomercato. Dopo gli arrivi di Gomis, Mancosu, Giosa, Maimone, Arrigoni, Fiordilino e Vito Francesco, il direttore sportivo Mauro Meluso, continua a lavorare incessantemente per riportare a Lecce il bomber Salvatore Caturano e per questo continuano i colloqui con il Bari, società proprietaria del cartellino dell'attaccante originario di Scampia. Il calciatore ha più volte dichiarato la propria intenzione di continuare a vestire la maglia giallorossa, anche se il nuovo allenatore del Bari, Stellone, vorrebbe trattenerlo nell'organico della compagine biancorossa. Dopo le cessioni di Benassi all'Arezzo e di Papini al Matera, sul piede di partenza ci sarebbe anche Stefano Salvi che dovrebbe firmare con la Juve Stabia. Questa mattina infine è stato presentato alla stampa il nuovo acquisto del Lecce Marco Mancosu, ex centrocampista di Benevento e Casertana, uno dei pezzi pregiati della campagna acquisti operata dal direttore sportivo Meluso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.